ok benvenuti ragazzi io sono Ghisus e oggi siamo su The Kaizo Caverns con Cece ciao mezz'ora di saluto però va bene ok l'ultima volta era successo un bel casino cioè un casino del diavolo con il creeper e tutto questa volta dovremmo cercare di mettere a posto quindi andiamo all'intersezione e oddio oddio ci siamo triplicati ci siamo triplicati ok ragazzi qui con noi oggi c'è Squid 00 dopo la Galaxy Map con Super Mario Galaxy Map l'abbiamo invitato su The Kaizo Caverns sono felice tre steve yeee siamo in tre i fratelli steve allora adesso è un bel casino Squid non ne ha idea però è un casino mostruoso va bene aspetta che completo il punto aspetta che completo il punto aspetta poi ci sono i cloni come abbiamo visto eh avete un ragno quindi un ragno è uccidetelo vietato dalle spade fate il vostro sporco lavoro ok il problema adesso è qui ecco il problema è qui lo spawner dovrebbe essere qua da qualche parte non ricordo è lì sopra ecco è lì sopra lo spawner di creeper vedete che c'è un buco questo non è roccia silverfish proteggetemi un attimo ragazzi ok avete fatto un punto grandissimo cosa è successo? oh creeper 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 ho fatto cadere non fate esplodere creeper ok è dietro di voi ragazzi mi ha droppato un arco lo stesso bene aspettate 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 creeper ecco io no 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 adesso Squid può capire la nostra disperazione è parecchio complicato ormai ci abbiamo fatto la video sì ci abbiamo fatto ci dobbiamo ripartire dall'inizio sì sì ma tanto da sola no 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 ci dobbiamo ripartire dal coso io gli prendo le cose vedo se riesco a bloccare ragazzi non ci permettono di tornare indietro a dormire no 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 via 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 io torno a casa mi dispiace bello ma ah io dico ok esatto mi sono maria io esco no 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 questa frase rimarrà nella storia questa frase giuro rimarrà nella storia ragazzi ho chiuso ragazzi ho chiuso i creeper mi so io ho trovato la strada ragazzi ho davvero chiuso i creeper eh sì c'è sempre un piccolo problema di zu un lamacca ti può ancora dormire eccomi qua ce l'ho fatto eh che cavolo ho un cuore ragazzi please aiutatemi vengo seguiti serviti serviti due zombie tanti zombie tre zombie ok aspettate aspettate prendo blocchi prendo blocchi cosa ti ha dato? tu non mi ritroppo alla mia copa io ce l'ho io aspetta 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 un attimo devo chiudere devo chiudere please please un attimo di pazienza guarda la casa la carota lo chiamavano l'ammazzazzombi guarda sì ma ce ne sono un po' non so se hai notato quanti ce ne sono ecco questa via qua a destra che tu vedi a destra è capito io non ho più tolto non so ma c'è lo sposo c'è il zombie dove c'è lo sposo? oh 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 oi occhio c'è occhio c'è zombie dov'è? è lì in alto ah è qua in alto bastardi aspetta aspetta c'è uno c'è una cassa salvatemi sono due con una cassa c'è una cassa c'è una cassa doppia qualcuno mi può salvare oh tu una corazza di ferro oh cavolo oh cavolo siamo ricchi oh io prendo la corazza prendiamo tutto prendiamo tutto e andiamo a portarlo e andiamo a portarlo ma siete velocissimi ho preso la cassa ho trovato solo una cassa di ferro e no ma perché cece perché adesso andiamo a portare le cose a casa andiamo a portare le cose all'intersezione là ma vi piace il mio cartello? vi piace il mio cartello? no no direttamente direttamente non romperlo non romperlo non romper il cartello non romper il cartello non lo facciamo vedere al nostro pubblico perché sennò dopo aspettatemi si si tranquillo non abbiamo fretta di morire? non penso proprio peggio oh carbone il mio figlio il mio figlio poteva morire con tutto l'entusiasmo del caso steve steve gli esploratori ok potremmo andare ci siete la famiglia aspetta un attimo che ho la musica non so perché no ho sentito anch'io no non ho la musica oh aiuto aiuto cosa succede? aiuto ah 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 cosa è successo? oh scheletro zombie come una rimpatriata proprio dove è lo scheletro? ho sentito una freccia perché hai una freccia in testa giù di eh perché mi ha sparato uno scheletro ah ok aspetta che ho dei bloc ho dei bloc aspettate perché dovete buttarvi giù tipo all'acba no perché cioè se non ti butti giù sei un cuglione esatto ma aspettatemi perlomeno ah via mi aspettate creeper 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 ciao c'està un altro via dove dove un altro no lo sappia cazzo Ecco perché il dungeon è di sabbia Ma c'è qualcosa Oh Enderman Enderman non guardate l'Enderman Non guardate l'Enderman Mi sa che lo guardate Perché è arrabbiato? Non lo so Però state nell'acqua State nell'acqua Che casino che fa Si fa un casino mostruoso State nell'acqua se avete problemi Qua si deve salire comunque Qua ce ne hanno già stati Ah infatti Dice che è tutto collegato Allora saliamo Sapete quale sarà il problema? Tornare a casa Eh beh Quello è sempre il problema C'è un ragno Quello è noso? Questo è il merda no Però mi ha fatto cadere Attacca a Gisius No 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 Oddio mio La cosa? Io sono sempre stato un uomo buono Dov'è il creeper? Ah sei buono No 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 Aiuto Aiuto Era immerso Silverfish No 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 Ciao Ciao Basta Basta Vorrei solo che sono morto Io sono vivo Eh però l'ho ammazzata L'ho ammazzata ma non è nata più neanche un simone Bene bene Oddio No 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 C'è l'acqua che mi trascina verso il creeper No Giorgio � Io sto salendo Eh Eh no Sono uscito Io sono morto Eh raggiungici Creeper Creeper Zombie aiuto Scheletro dall'area Due scheletri Creeper Eh ragazzi sono salito su Ce l'ho fatta Ehi ti ha aperto una strada Ti ha aperto una strada guarda basta io muoio ancora ciao come dove sei tu sei salito si sono salito no 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 qua però da un po qua c'è una strada però vabbè io muoio ciao ma c'erano stati qua lascia un plate oddio oddio distrutto oh cec 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 ci ho spostati cazzo no 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 sono tutti silversi no 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 cec ce vattene via vattene via cec no 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 nell'acqua sono nell'acqua sto per morire Che bastardo No Ho perso tutta la roba Mi sa che sarà il casino Dai ragazzi si può fare Non perdiamo le speranze Ho tornato L'ho fatto E poi forse è stato meglio chiudere l'acqua Perché ora che guardo Vedo anche una cesta Bene E un crafting table E un creeper Fatemi creeper Ok Ci sono Oh no no Vedi la roba Non avvicinarti Ho visto Ma vedi la roba Qualcuno porti dei blocchi Sto prendendo Tutto quello che c'è Forse per me Vi sono Oh cazzo Oh cazzo Eh problemone Problemone Problemonissimo Abbiamo un problemissimo Si Un attimo e arrivo Eh ma sono tutti No ma sono tutti blocchi silverfish Che parla Mi sono chiuso in un buco Il buco dove? È una porta qua Ehi là No No Vada retro Lontani Vada retro Suicidare Quei cose Oh mio dio Sarà una cosa Molto lunga E due Troppa mio narco Troppa mio narco Bastardo Troppa mio narco Troppa mio narco Dai dai Per farla breve Ho ricostruito Strong Penso che sia la parola Più lunga Che abbia mai sentito Ricostruito Significa Mettere di nuovo Insieme Questo significa Che ha riportato In vita Strong È fantastico Mr. Borean Non è gradioso Strong Eh? Strong? Geo Sono certo Di averlo riportato Allo stato originario Ma non è lo stesso Di come era prima Non ho trovato Sufficienti dati Ecco Qual è l'inghippo Allora